Ebbene sì, quest'oggi con la Bullit abbiamo incontrato un nuovo amico, Mr. Drone. Tra poco vi faremo vedere questo filmato fatto con amici come David Mariottini. Quindi capite come anche un drone, quindi un robot, si possa innamorare di una Bullit. Per voi il filmato è Drone Fall in Love with Bullit. Il drone si è innamorato della Bullit. Buona visione. Grazie a tutti. 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 tu li stai seguendo, io lo vedo, ma non sei certo a seguire lei, sei a seguire questa splendida bull, che lunga a posta che ha letto la Copenaglia, è la classica di cargo, la cargo bike, la rigida a cargo, con la quale i paesi nord, soprattutto a Copenaglia, impingano per portare l'India fuori, per portarci la stessa, i loro animali, i cagli, vanno passi per metterli che sopra la bull, questa è la versione che abbiamo utilizzato ad Arezzo, che stiamo utilizzando per trasportare i paesi che toglie una confondenza di Arezzo, che ha cercato due più vite, quindi questa è la Red Eagle, l'acqua rossa, dalla stessa che ho fatto a desto, con la quale sforcavo i paesi all'interno del piatto storico, anche in orario dove non è possibile, che lo vengono così. Per due volte però, perché io ho visto, ma il cedino va abbastanza assoluto, eh? Ciao! Ciao, Otto, è stato proprio un amico, ti ringrazio molto, e voglio rivegliere la bull, che quando ci portiamo, molto presto, ma non c'è anche l'acqua di scattura, e di tutto, Mr. Drone, grazie per essere sposato sulla bicicletta Bullit, che a quanto capite è scoppiato un amore. Ora, abbiamo fatto un incrocio con la slitta di Babbo Natale, è riuscito, col drone vedremo quello che viene fuori, di sicuro viene fuori un bel filmato, grazie anche a David Mariottini, che è un amico, e ci ha dato, non una mano, una grossa mano, e soprattutto ha portato Mr. Drone con noi. Mr. Drone, ringrazia il signor Fabio Fioroni, per la sua grande performance con questa bicicletta meravigliosa, che viene direttamente da Copenhagen, correggimi se sbaglio. No, no, esatto. È stato un piacere fare queste riprese, speriamo che venga un bel video, un'amicizia. Di sicuro lo vedranno in tutto il mondo. Certamente. Questo è importante. Quindi saluti da Arezzo, dall'Italia, e da Drone Arezzo, insieme a Fabio Fioroni. Ricordiamo che tutti i video che Davide poi fa, li potete trovare su internet, al suo sito, che si chiama? www.dronearezzo.altervista.org Quindi, sapete dove trovarci. Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti